Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza dal Signore nostro Gesù Cristo, che per noi ha dato a se stessi riscatto per tutti, ci ha acquistato e apprezzato il suo sangue, ha aperto il suo cuore divino ad ogni creatura che si rivolge a lui con fiducia e amore. Il Padre lo ha mandato a portare la sua grazia, la sua misericordia, la sua salvezza a tutti gli uomini. Nel brano di Vangelo che ascoltiamo oggi nella Messa troviamo l'episodio di un dar che si rivolge a Gesù e gli pone questa domanda. Maestro, sono pochi o molti quelli che si salvano? E Gesù non dà una risposta quantitativa, non dice quanti, dici ma per quale strada bisogna ricercare la salvezza. La salvezza è il dono di Dio e la salvezza consiste prima di tutto, fratelli, nell'avere la remissione dei peccati perché Dio è amore e quando noi ci avviciniamo a Lui o ci lasciamo avvicinare da Lui il primo dono del Signore è quello della rimozione dell'inemicizia. Lui non è in lite con noi, io sono il Santo in mezzo a te, io sono un Padre per Israele e vuole quindi il bene di tutti, si avvicina a tutti, non tutti, rispondono, non tutti aprono la loro vita alla grazia ma Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E allora il primo dono che il Signore accorda a chiunque si rivolge a Lui col cuore viene esaudito, Dio rimette i peccati. Nel Vangelo troviamo spesso e volentieri episodi o insegnamenti di Gesù dove si parla di quest'amore, di questa misericordia. Per bocca del profeta Ezechiele nell'Antico Testamento e va a dire misericordia io voglio, non sacrificio. Però Gesù dà anche una direttiva. Cercate di entrare nel Regno di Dio ma per la strada stretta, per la porta stretta cioè non per la via della passione e della comodità per la via della dissolutezza, della ricchezza dove il cuore dell'uomo si può sbizzarrire ma per alienare se stesso perché noi siamo nel Regno di Dio quando viviamo secondo lo Spirito di Dio. infatti oggi noi troviamo nella prima lettura l'Apostolo Paolo che ci dà questo insegnamento ci dice lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili cosa vuol dire questo gemiti inesprimibili? La preghiera nello Spirito, fratello, non è una preghiera concettuale è una preghiera di cuore è una preghiera di anima di vita le idee non sempre riescono a tradurre tutta la ricchezza dell'anima dell'uomo una mamma che a volvere bambine se lo prende in braccia, se lo bacia, se lo stringe al cuore non c'è parola che possa esprimere tutto quell'amore che sta dentro il suo cuore così quando noi ci rivolgiamo al Signore le parole non sempre riescono a esprimere tutta la profondità d'animo che è in noi tutte le esigenze della nostra vita è qualora la preghiera nello Spirito dove la persona credente si apre all'amore di Dio Padre in Gesù Cristo ci si abbandona a Lui e si lascia che lo Spirito stesso cerca sia la nostra vita a pregare e Dio non ascolta le nostre parole ma il gemito che è dentro la nostra vita se tu stai soffrendo nel profondo della tua anima perché hai subito un'ingiustizia il Signore quello ascolta quel gemito profondo anche se la tua mente non riesce a tradurre in parole quello che tu vorresti dire oppure dentro di te c'è un bisogno di liberazione dagli angosce che hai il Signore ascolta quel grido ricordate la preghiera del pubblicano dice Gesù in una parabola che due uomini entrarono nel Tempio a pregare uno era fariseo e allora tutto impettito si messe davanti all'altare del Signore dicendo signori non sono come gli altri uomini vedete l'arroganza prego tre volte al giorno digiuno due volte alla settimana do la decima ai poveri quindi sono perfetto quindi avanzo diritti davanti a te quell'uomo dice Gesù era entrato peccatore ed uscì peccatore in fondo al Tempio invece umilmente quasi di nascosto un povero pubblicano cioè una persona ritenuta peccatrice con la balatrice nei pagani ne riscuotra le tasse si batteva il pesto dicendo Signora abbi pietà di me perché sono peccatore e si rimette alla grazia di Dio non chiede si rimette alla grazia cioè mi abbandona a te ecco lo Spirito lo Spirito ti porta ad abbandonarti accedere ad arrenderti alla grazia di Dio perciò l'Apostolo dice che lo Spirito Santo intercede per noi con gemiti inesprimibili cioè scruta le profondità dell'anima e quando allora tu ti apre nel cuore ti abbandona il braccio del Signore lo Spirito Santo prega per te e continua l'Apostolo dicendo il resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio e lo Spirito Santo intercede per i Santi secondo i disegni di Dio non secondo i nostri disegni perché non sappiamo neppure quale sia il nostro bene per cui troviamo ancora nella lettera di Efesini l'Apostolo che dice rivolgetevi al Padre con qualunque forma di preghiera nello Spirito e lo Spirito a volte ti fa piangere a volte ti fa gioire lo Spirito a volte ti fa titubare perché lo Spirito è la verità lo Spirito è la presenza di Dio e quindi l'uomo che si abbandona nello Spirito vede la sua preghiera alzarsi vede la grazia di Dio entrare nel suo cuore così l'Apostolo San Giuda dice carissimi costruite voi stessi sopra la vostra Santissima Fede pregate nello Spirito Santo pregate nello Spirito Santo nei gruppi di rinnovamento nello Spirito si tente a pregare in lingue è un dono questo dello Spirito e questo il fenomeno che canta in lingue viene ritenuto una giubilazione dove non si prega con la mente con idee ma si apre il cuore e la bocca corgoglia e la bocca non pronuncia magari mette dei suoni ma è il cuore che si libera e si innalza a Dio il proprio cuore non è importante sentire dei suoni o pronunciare delle parole ma che il cuore sia liberato e si apra alla presenza di Dio e tante volte quando ci si abbandona quella preghiera il Signore ispira parole profetiche date consigli solleva l'anima perché la sua presenza si fa sentire magari le nostre preghiere articolate fatte di concetti non riescono a penetrare il cielo mentre la preghiera in spirito si innalza a Dio e la chiesa vedete fratelli ogni volta che celebra qualche evento particolare invoca lo spirito santo canta il veni creatore viene lo spirito creatore e lode e benedice Dio ma cerca di aprire il cuore è lo spirito santo fratelli che guida la nostra vita spirito santo di Dio oggi guida tutti noi a camminare nello spirito tu ci spingi ad essere conformati a Cristo e Gesù dona a tutti noi la libertà di abbandonarsi nelle braccia del Padre donaci con la libertà come Gesù nell'orto degli olivi che gemeva al Padre i suoi gemiti prima della passione ma non prolungava le preghiere in parole in discorsi ma semplicemente apriva il cuore al Padre donaci Signore Gesù oggi la preghiera nello spirito spirito santo vogliamo chiederti insegnaci a pregare insegnaci di abbandonarci alle braccia del Padre nelle braccia di Gesù figlio di Dio Signore e Salvatore nostro e prega tu per noi intercedi per noi noi non sempre conosciamo ciò che è giusto per noi donneci la grazia di abbandonarci alla volontà del Padre con gioia e amore sottomettendoci alla sua parola a Gesù gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e tu Vergine Santissimo che sei vissuta animata dallo spirito santo nel tuo cuore non si è mai affacciato la malizia nel tuo cuore non si è mai affacciato il ragionamento nel tuo cuore c'è stato l'amore e quando hai salutato l'Isabetta lei è esultato nello spirito lei è comunicato un afflato di spirito santo oggi quell'afflato materno pieno di spirito santo tocca il cuore di tutti noi è libero quando sono turbati quando sono nell'incertezza quando cammino nel terrore nell'ansia nelle paure libero quando si sento oppresse dalle colpe Vergine Santissima con la tua priera materna piena di spirito santo animata solo dallo spirito santo guida tutta la chiesa ad incontrarsi con Gesù a seguirlo per la via stretta non per la via comoda del piacere della ricchezza della superbia del potere ma per la via dell'amore a Gesù gloria onore potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli amen e allo spirito del Signore oggi fratelli inondi la vostra vita vi conformi a Gesù Signore e Salvatore perché egli sia il primogenito tra molti fratelli poiché sappiate bene che il Signore su di te ha un progetto se lo ricorda San Paolo nella prima lettura ha fatto un progetto quello di glorificarti un giorno accanto a Lui e Lui non rinuncerà mai a questo progetto a Lui si è elevato ogni lodo e benedizione amen